A Torino, nel quartiere Rebaudengo, i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato un cittadino italiano di origine marocchina residente in città. L'uomo, in piena notte, dopo aver forzato la porta esterna del locale caldaia e di una scuola comunale, è entrato all'interno delle aule e ha forzato diversi armandietti metallici in uso ai docenti. Il ladro è stato però tradito dal fascio di luce emanato dalla torcia, utilizzata per muoversi al buio. Infatti i carabinieri di Battuglia hanno visto all'interno dello stabile un bagliore spostarsi nei corridoi della scuola e sono prontamente intervenuti per un controllo. Hanno dunque sorpreso il malvivente intento rovistare negli armadietti, da dove aveva già rubato una macchina fotografica digitale e una macchina per il caffè, che i militari dell'arma hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Grazie per la visione!